Presidente, noi stiamo facendo questo consiglio straordinario su AMA perché ci ritroviamo in una situazione dove oggettivamente ci sono delle difficoltà, è inutile stare a negarlo, serve una sterzata nell'attività di AMA e di questa amministrazione perché le difficoltà oggettivamente ci sono. Certo è che però bisogna fare chiarezza su quelle che sono le motivazioni per cui siamo a questo punto e le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto partiamo da un piano rifiuti regionale, un piano rifiuti che è del 2012 e che è ancora in vigore e prevede inceneritori e discariche. Siamo ancora fermi lì, a quel punto. Ora c'è stata tutta la polemica su quando la città metropolitana poteva fornire le cosiddette aree bianche alla regione Lazio e la regione non poteva emanare il nuovo piano rifiuti. Questo assolutamente non è vero. Questa è una sciocchezza perché l'articolo 196 del 152 prevede che sono di competenza delle regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento sentiti le province e i comuni e le autorità d'ambito del piano i regionali di gestione dei rifiuti. Anche il piano del 2012 è stato emanato e nello stesso piano si diceva che l'impiantistica era vecchia, lo dicevano già nel piano del 2012 e questo non impedisce alla regione di poter emanare il proprio piano. Per cui questa è stata una scusa della regione dare la colpa, tanto è di moda dire colpa della Raggi, di poter scaricare sul Comune di Roma la responsabilità del non aver emanato questo piano. Adesso sappiamo che la cabina di regia che ha attivato il ministro Costa ha fatto sì che entro la fin del mese la regione ha dichiarato che presenterà questo piano dei rifiuti, che è assolutamente indispensabile. Bisogna dire anche che ci sono state due sentenze del Tar che hanno condannato la regione per non aver ottemperato i propri compiti. Queste non sono banalità, sono cose assolutamente serie. Se ce le vogliamo dire tutte le questioni che non funzionano in Italia, purtroppo il ciclo dei rifiuti in Italia è pieno di illegalità. Non ci dobbiamo nascondere dietro questo aspetto. C'è stata la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle illecite ambientali ed essi correlati, che ha pubblicato una relazione a gennaio 2018, dove è evidenziato che ben 259 incendi ci sono strati e impianti e strutture di trattamento dei rifiuti tra il 2014 e il 2017. Noi sappiamo che oggi questo dato purtroppo è vecchio, ci ne sono stati degli altri, siamo arrivati anche a quota 300 e sappiamo che purtroppo questo ha coinciso anche con l'incentio dell'impianto del salario. Ora tutti l'avete letto sui giornali che c'è stato l'impianto di videosorveglianza che quattro giorni prima si è improvvisamente interrotto e non ha più funzionato. Allora, detto francamente, gli interessi che ci sono dietro il ciclo dei rifiuti sono interessi illeciti, interessi che premono sul mercato perché le cose non funzionino. Io mi auguro che da parte delle opposizioni non ci sia il tentativo di ritornare al passato, pensare che allora l'unica soluzione siano le discarie e gli inceneritori, cosa che noi diciamo con chiarezza, che questa cosa assolutamente non può e non deve accadere. C'è un altro, ci sono tanti motivi per cui purtroppo le cose non sono andate bene e comunque noi ci dobbiamo impegnare a fare di più, a fare uno sforzo maggiore perché la situazione attuale così assolutamente non va. C'è stata anche una delibera di Marino che ha bloccato le assunzioni. Tutte le persone che sono andate in pensione in AMA non è stato possibile reintegrarle in questo periodo. Solo negli ultimi tre anni ci sono state ben 530 persone che sono andate in pensione e non sono state reintegrate. Stiamo parlando di 7.700 dipendenti di AMA, per cui è un numero considerabile che alla distanza di tre anni alla fine pesa, non può non pesare. Noi stiamo cercando di risolverlo adesso questo aspetto e nel 2019 abbiamo predisposto tutti gli atti per ritornare ad assumere in AMA. Io vorrei rassicurare un pochino le opposizioni per due cose. Uno perché se è vero che la sindaca ha detto nel suo intervento che ci sono state delle persone licenziate è perché magari hanno fatto delle cose illecite e in quel caso le persone vanno licenziate, ma per tutelare tutti quei lavoratori onesti che si spaccano la schiena, andare a raccogliere la spazzatura per strada. E sono tantissimi. Questo è il punto e lo diciamo con chiarezza questa cosa. La diciamo con assoluta chiarezza. Per cui non mistifichiamo. C'è qualcosa, c'è anche qualcosa che non funziona in AMA e probabilmente non funziona anche per qualche dipendente, ma la stragrande maggioranza è assolutamente sana. Sana. Noi vorrei anche rassicurare il consigliere Pelonzi che ha detto ma non vorrei che voi a questo punto volete adottare la strada che avete adottato in Atac. Beh, innanzitutto dei tanti temi che noi abbiamo affrontato in questa città, complicatissimi, non ce n'è uno, uno che fosse veramente semplice, nessuno. Beh, a Atac possiamo veramente essere orgogliosi. Abbiamo trovato una società con un miliardo e trecento milioni di debiti fallita, fallita, con autobus di dodici anni di media per un numero insufficiente. Abbiamo attivato questa procedura di concordato preventivo in continuità, con coraggio, e le opposizioni gridavano in quest'avola che volevamo far fallire Atac. Finalmente, qualche giorno fa, il piano di rilancio che Atac ha presentato è stato approvato dai creditori e questo è stato un grandissimo punto per questa città. E sul punto di Atac stiamo oggettivamente avanti e non ci sarà nessun concordato preventivo per quanto riguarda Ama. Ora, noi abbiamo predisposto diverse attività con questa amministrazione. Abbiamo predisposto sicuramente un nuovo porta a porta che è partito nel sesso e decimo municipio. Stiamo partendo con dei numeri. Ci sono delle difficoltà, ma sta andando, ma può funzionare solo questo porta a porta, perché funziona con un altro metodo che è funzionale. Certo è che quando arriveremo a assumere nuove persone questo porta a porta funzionerà sicuramente meglio, ma noi ci impegniamo a portarlo avanti in tutti e due i municipi perché dovevamo assolutamente farlo nel municipio intero e non come aveva fatto l'amministrazione precedente che fa quartieri separati, che il cittadino poi da un quartiere fa la migrazione dei rifiuti. Perché così non funziona. O lo fa in municipi interi così come sta facendo questa amministrazione. O le cose non funzionano. Poi ci sono delle difficoltà, è vero che ci sono, ma intanto noi abbiamo avviato un percorso come abbiamo avviato un percorso con le utenze non domestiche. Adesso abbiamo intenzione di portare le utenze non domestiche a 85.000 con il porta a porta. Noi contiamo che se questa cosa noi dovremmo fare un controllo preciso, puntuale, sull'attività della raccolta porta a porta delle utenze non domestiche, perché si potranno avere dei risultati importanti alla fine del 2019, se questa raccolta porta a porta delle utenze non domestiche funzionerà come deve funzionare. Noi non vogliamo nasconderci di fronte alle difficoltà. Le difficoltà ci sono, le difficoltà si vedono anche nella città, ma le motivazioni sono molteplici. Le stiamo affrontando. In alcuni casi abbiamo intrapreso delle strade e poi ci siamo resi conto che forse quella strada non era ottimale. Adesso dovremmo magari cambiare strada, ma l'impegno che questa amministrazione sta mettendo per far sì che l'attività dei rifiuti possa andare in una certa direzione, che è quella del riciclo, che non vuole le discariche degli incerenitori, è questa. E noi questo vogliamo portare avanti. Le difficoltà ci stanno, ma rafforzeremo l'impegno per raggiungere questi risultati. Dunque, noi presenteremo un atto in cui metteremo in fila alcuni nostri impegni rispetto alla città da questo momento in avanti. Saranno impegni importanti. Noi questo consiglio è un consiglio importante perché ci permette di fare il punto della situazione su un argomento che è centrale per la città, per tutti noi, per cui da qui vogliamo ripartire con più energia per risolvere questo problema definitivamente. Grazie.